ciao bentornati nel nuovo episodio del podcast dedicato all'illusione del cavallo ciao di nuovo ciao a tutti siamo marco e alberto continuiamo ad andare avanti sul nostro percorso iniziamo siamo un po siamo addentrati molto e si è toccato tanti argomenti livelli tosti sì che siamo all'undicesima puntata l'episodio a chiamiamolo come volete e ora siamo arrivati a uno dei punti un altro punto critico il discorso del metodo 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 sì metodo no metodo boh metodo mi aiuta mi risolve problemi metodo cos'è un metodo quanto tempo è che si dice proprio sempre la nostra frase di rito è quello che non c'è un metodo non c'è un metodo e non ci potrà mai essere un metodo giusto per qualsiasi persona e per qualsiasi cavallo il metodo è quella quel percorso e ti insegna come risolvere un problema come portare a fare un determinato esercizio facendo un determinato percorso seguendo gli step semplici step per arrivare a un obiettivo e questo sembra facile questo è la cosa più semplice del mondo potremmo chiuderla qui quindi metodo sì metodo sì ok però c'è un però però grande no noi anche nel libro abbiamo fatto l'esempio di un po appunto paragonando il metodo a ok voglio spostare una scatola una necessità di fare qualcosa una necessità di arrivare a un obiettivo devo portare uno scatolone da a a b ok come come si fa applico un metodo che è quello di spingerlo perfetto ok perfetto peccato che è uno scatolone che fuori misura fuori misura penso esagerato che non posso spingerlo o magari potrebbe essere meglio rotolarlo potrebbe essere meglio sollevarlo e portarlo a mano potrebbe essere meglio metterlo in carretta chiamare qualcuno ci sono tantissimi tantissime opzioni per arrivare al solito risultato e il limite del metodo è proprio quello che ti dà un percorso una strategia di lavoro che però non è non è detto che sia la migliore per quella persona e soprattutto anche per quel cavallo in quel caso lì e anche per la situazione in cui si troviamo perché tu adesso già già con l'esempio dello scatolone già portato quello perché magari arrivi arriva un culturista dice a me peso è relativo per me non è pesante arrivo io effettivamente se c'era le ruote era era meglio quindi già il primo passaggio è quello anche la scelta in base a chi siamo alle nostre capacità alle nostre appunto se siamo sulla ghiaia o su bravissimo e anche lì appunto in base all'ambiente alla situazione in cui ci troviamo che ci sono tantissime variabili che il metodo non giustamente non può considerare è per quel motivo lì che siamo contro al metodo non neanche contro però dobbiamo comprendere il limite del metodo e la miglior soluzione per in ogni caso è proprio cercare di comprendere al massimo le proprie capacità le le attitudini le diciamo il carattere le difficoltà del cavallo che abbiamo davanti considerando come abbiamo detto anche l'ambiente in cui ci troviamo quindi noi le nostre capacità i nostri limiti il cavallo le sue capacità le sue difficoltà l'ambiente la giornata la giornata ci sono tante cose tante la salute come si sente infatti quindi appunto sono tanti anni che questa cosa del no metodo è sempre uscita fuori semplicemente perché è ambigua perché alla fine un metodo c'è perché ognuno ha una propria metodologia ma è calcolata all'istante di fatto infatti e però perché allora va così di moda perché vanno così a ruba il metodo perché le tante persone vengono affascinate dal seguire un preciso metodo invece magari un altro via dicendo te pensa che già l'hai detto all'inizio il fatto che il metodo ti aiuta a risolvere un problema un qualcosa che non sai fare con un metodo riesci a farlo quindi è più semplice piuttosto che partire e come risolvere un problema con un foglio bianco piuttosto che avere una traccia chiaro che io segue segue una traccia e mi fa portare in fondo perfetto è semplice la cerco quella soluzione perché tutti noi cerchiamo le soluzioni facili soluzioni che ci qualcuno ci guida abbiamo anche meno responsabilità perché applico quello funziona dovrebbe funzionare o meglio non mi prendo neanche la responsabilità di farmi questa domanda qua può darsi e non funzioni non lo so perché metodo mi garantisce garantisce che quella la strada giusta è la tecnica giusta da usare in quel caso lì anche questo è un altro aspetto molto importante del metodo che in qualche modo ci alleggerisce da quella responsabilità da quella opzione da quella possibilità di dire cavolo ma forse sbaglio facendo questo magari per il cavallo è troppo magari non sono in grado invece il metodo ti dice proprio ti tranquillizza che quella parte lì ti toglie la responsabilità infatti ti toglie proprio la responsabilità perché ti dice chiaramente tutti gli step da seguire tutto proprio appunto bello chiaro bello una scala proprio tendono tanto a schematizzare tutta questa tecnica da utilizzare per arrivare a un certo obiettivo e per quello allora te non hai la persona in questione non ha grande paura di sbagliare perché c'è una teoria che ti dice appunto che così va bene quindi sicuramente per una grande percentuale di persone non c'è una grande percentuale funziona perché diciamo che lavora un po' a livello più alto faccio questa cosa grossolanamente e le casistiche principali funziona perché c'è la variabile cavallo che altera tantissimo questa equazione perché se lo porti in un altro settore effettivamente potrebbe essere più plausibile sì già sì sicuramente appunto qua nell'ambiente equestre è ancora più difficile perché abbiamo a che fare con una con un altro animale con il suo passato con il suo carattere con le sue abilità cognitive sapete appunto non tutti appunto l'individualità la soggettività di ogni cavallo bisognerebbe sfruttarla bisognerebbe appunto incanalarla nel portare un risultato ancora migliore e magari appunto in altri ambienti non non avendo a che fare con un altro animale è sicuramente più più facile arrivare all'obiettivo comunque vada anche la nostra capacità anche la nostra il nostro saper fare il nostro la nostra soggettività proprio da essere umano bisognerebbe lo stesso considerarla perché quando nessuno è uguale all'altro io non sono uguale a te non sono uguale a nessun altro sicuramente bisognerebbe riuscire a portare al miglior risultato considerando proprio le caratteristiche di ognuno della parte del binomio sia della persona che del cavallo è un po' il limite un po' della scuola di oggi si parla tanto dell'insegnante come l'istruttore ok l'insegnante ha a che fare con una classe di 15-20 alunni in qualche modo si crea un suo metodo di insegnamento che in qualche modo è quello e gli alunni dovranno in qualche modo riuscire a seguire quel tipo di già solo come programma tempistico è tutto standardizzato e questo però è da vedere un po' anche in questo caso come un limite perché ci saranno alunni che non avranno nessun tipo di problema a seguire quel tracciato quello schema, quel metodo di insegnamento ma sicuramente alcuni avranno un po' più di intoppi, di difficoltà perché magari non è proprio un metodo giusto per valorizzare le loro qualità e magari sono proprio gli alunni più smart, più svegli, più... chi lo sa, non si sa che andrebbero anche più veloci infatti e quello, ecco continuando il paragone con la scuola, con l'insegnante l'addestratore o il cavaliere o l'istruttore che sia ha a che fare con un allievo che è il cavallo, che è il binomio, diciamo e quello va sfruttato cioè proprio per quel motivo lì bisognerebbe avere quell'abilità di creare un metodo ad hoc su misura, proprio studiato su misura in base all'allievo umano e all'allievo cavallo che abbiamo davanti perché possiamo, non abbiamo una classe di binomi e quello sarebbe appunto il valore aggiunto di un bravo trainer capire proprio le qualità di ognuno per andarle a sviluppare, per andarle a spingere per poi appunto avere un risultato eccellente che poi anche con lo stesso cavallo tu potresti trovarti di nuovo a dover riaffrontare delle problematiche e magari la prima cosa dici avevo fatto così perché io sono io lui è lui l'ambiente è quello e magari anche in quel caso lì non va bene più quella soluzione vecchia che avevi applicato quindi magari anche per il problema vecchio devi usare una soluzione più diversa nuova, riadattata perché nel frattempo il cavallo è andato avanti è cresciuto, ha fatto esperienze è cambiato perché tutte le esperienze che fa come abbiamo sempre detto il cavallo come noi esseri umani apprende dalla mattina alla sera cioè sempre, continuamente così può darsi è giusto che anche le sue problematiche le sue difese le sue in qualche modo paure appunto incertezze e così via e nel tempo cambiano e noi però dobbiamo stare al passo perché se no quindi come si vede sempre magari quando mettiamo qualche video dove dice ah sì ho un cavallo che fa la stessa cosa come hai fatto quindi non è più sufficiente dire non te lo posso dire perché è un cavallo diverso ma addirittura la casistica è diversa perché con lo stesso cavallo anche tu fai ti ho visto fare varie volte cose diverse cioè ogni volta riparti da zero di fatto ma è chiaro, è chiaro per quanto riguarda proprio appunto il problema o l'incomprensione insomma che ci troviamo a dover risolvere col cavallo la cosa più importante è capire l'origine del problema stesso è inutile conoscere il metodo o la tecnica per risolvere appunto facciamo l'esempio del cavallo che si impenna ci sono miliardi di soluzioni per quel tipo di problematica però la soluzione giusta che risolverà il problema sarà quella che considererà da dove appunto da dove è nato cos'è che ha fatto scaturire quel problema lì altrimenti se non è chiaro che sarà un palliativo che sarà una soluzione magari di breve durata che non sarà che non risolverà del tutto il problema e quello è importante ricordo quando noi facevamo i video del prima e dopo spesso la gente ci in qualche modo era un po' delusa perché non facevamo vedere il durante il come ma quello è stata una cosa appunto voluta proprio perché non possiamo generalizzare soprattutto le problematiche problemi comportamentali non si può dire il cavallo che impenna si risolve in questo modo perché appunto bisogna considerare l'interpretazione capire il perché di quel cavallo ha fatto appunto perché ha fatto quel tipo di comportamento in quella situazione con quella persona con quel tipo di richiesta ci sono talmente tante variabili che vanno considerate sempre ancora di più nel momento che ci sono delle problematiche da risolvere sì perché anche a cose normali per la crescita un puledro comunque un cavallo in addestramento in apprendimento continuo abbiamo detto io potrei se mi trovo ad applicare dei metodi fissi senza questa flessibilità potrei anche non arrivare o comunque chiedere delle cose quando lui non è pronto perché lo scalino dopo è fare quello ma lui sì il primo me l'ha passato ma come anche lì è pronto per accettare quello dopo oppure viceversa ne potrei saltare tre andare ancora più veloci magari infatti è quella la difficoltà più grande nell'interazione col cavallo è proprio l'interpretazione e facciamo del soggetto che abbiamo davanti e noi in base a quello strutturiamo un po' il livello di addestramento diciamo quello che vogliamo fare con il cavallo ci sono cavalli che in 448 imparano tantissime cose è bene allora stimolarli ancora di più mantenerli belli vivaci belli attivi e ci sono cavalli invece che devi un po' appunto rispettare un po' di più i suoi tempi per non rischiare invece proprio di bruciarli di annoiarli c'è tante cose da considerare annoiarli perché poi anche quella parte lì perché se io ogni volta porto un cavallo che avrebbe quelle potenzialità interessanti la lettura del cavallo però potrei anche sbagliarla quindi a maggior ragione accanirmi su no deve fare quel passaggio perché è previsto nel mio protocollo la mia scala di quello che voglio se io mi accanisco lì perché su tutti gli altri se l'ho fatto lui non riesce a volte nasce problemi a volte facciamo danni grossi quindi potrebbe diventare un problema proprio seguire uno schema con i paraocchi diciamo è chiaro è chiaro ma io tutto quello ci sono tanto ogni cavallo è diverso l'uno dall'altro e proprio il puntare sulle sue qualità su quello che gli piace su quello che appunto lo stimola è quella la qualità dell'addestratore o del preparatore che sia dell'istruttore e questo non viene considerato ma ragazzi c'è ancora questa cosa della scala di addestramento di pensare cavolo ma ogni cavallo è diverso ci sono cavalli che hanno un impulso innato incredibile da subito cioè capito non si può standardizzare tutto non si può non sono macchine è un po' stupido secondo me pensare di banalizzare a tal punto da ok con tutti i cavalli si fa così c'è sempre appunto una scala di addestramento una scala di lavoro una scala no no ma come quelle persone infatti penso a quello vediamo quelle persone perché ci sono tanti poi adesso in questo periodo sono esplosi tanto il discorso appunto dei sistemi mentali per migliorare le performance eccetera e ce ne sono tanti che se io ti spiego quello che ha funzionato per me e tu lo applichi magari non funzionerà mai perché per la tua emotività capacità livello appunto di vita di dove sei arrivato a livello proprio di crescita personale non ti funziona è presto per te o è poco quindi crescita personale è una crescita personale come dice la parola però appunto torniamo al discorso di perché il perché è perché altrimenti è davvero difficile cioè proporre una cosa che dice ok tu devi leggere il cavallo perfetto ci vogliono i primi anni sono riuscite invece in un altro modo tu a fine giornata fai cose come la mettiamo questa è un po' il motivo per cui non mi piace molto fare corsi anzi non faccio corsi di gruppo lezioni di gruppo perché non puoi non puoi cioè secondo me io non ho quella capacità di fare lezioni a più persone che fanno magari appunto il solito esercizio ma no come cioè la cosa proprio bella è quella caratteristica è quella finezza di ognuno magari della persona che vedi che quella persona è molto attenta a certe cose ok bene sviluppa quella cosa lì capito lavoriamo su quello sviluppiamo quella parte lì o cavalli appunto sensibili in maniera esagerata ok lavoriamo su abituarli a stare più tranquilli o più non lo so però ecco andare a considerare andare a concentrarsi nelle caratteristiche di ogni individuo del binomio cioè dell'uomo e del cavallo è complesso cavolo e come fai a fare una lezione un corso dove c'hai 10 15 alunni in campo no cioè non riesci anche perché queste cose sono un attimo sì perché il lavoro col cavallo la comunicazione col cavallo ragazzi non si può pensare di poter lavorare un'ora col cavallo cioè un'ora ma un'ora è tantissimo cioè nella fase proprio soprattutto di addestramento mentale cioè proprio di apprendimento mentale cavallo bisogna essere sul pezzo subito magari perdi il momento se no non puoi pensare di lavorare un'ora spiegheranno meglio questa cosa perché sembra perché appunto le lezioni di solito sono fatte così però un approccio di questo tipo dove devi avere massima attenzione tu su tutto su tutto quello che fa poi tra l'altro come istruttore quello che fa il cavallo quello che fai tu quello che dici quello che fa l'allievo quello che pensa prima di e quindi già lì quindi un'attenzione esagerata il cavallo lo mette in condizioni se è partecipe di dover fare dare attenzione e anche lui non lo sa fare non può mantenere l'attenzione tutto quel tempo non riesce soprattutto un puledro soprattutto cavalli giovani non durano e già quello capire qual è quel limite lì significa lavorare a livello individuale perché tu sai che quel cavallo è maturo per lavorare un'ora in tranquillità e ti ascolta e apprende e va avanti e tu puoi farlo magari con un altro devi lavorare 10 minuti diciamo prima iniziato tu lui è arrivato e come lo capisci? prima che arrivi a quel limite perché altrimenti già esforato sarebbe anticipare un po' gli eventi bisognerebbe riuscire sempre a rendere prevedibile tutto a rendere proprio noi anche nel libro abbiamo parlato proprio dell'addestramento predittivo nel senso sia verso un po' verso la persona cioè riuscire a capire prima i disagi della persona che sta lavorando col cavallo o appunto le paure della persona per riuscire proprio a mettere a creare una situazione per agevolare la persona stessa e poi per quanto riguarda il cavallo secondo me questa è proprio l'evoluzione di tutto riuscire a rendere il cavallo prevedibile questo è un passo fondamentale importantissimo per chiunque voglia avere una comunicazione il più chiara il più concreta e il più soddisfacente possibile più efficace e quello appunto sembra un po' qui addirittura parlano di predittivo abbiamo parlato prima della magia e poi adesso dice predittivo predittivo ecco spieghiamolo un attimino perché appunto predittivo si intende che si cerca come qualsiasi calcolo delle probabilità si cerca di capire quello che sta succedendo ma è quello che un po' succede è quello che il nostro cervello è progettato per fare perché cerca sempre di anticipare per velocizzare le risposte cerca di capire quello che in base alle nostre esperienze competenze ambiente quello che potrebbe succedere in modo tale che è subito pronto quindi avendo noi in dotazione questa macchina che fa questo lavoro sarebbe bello usarla anche col cavallo in che modo cercando di conoscendolo chiaramente sapendo quello che vogliamo chiedere e sapendo come lui potrebbe rispondere quindi un po' immaginare se faccio questo quali sono uno due mille scenari infatti è per quello che quando si parla appunto del lavoro col cavallo non è il lavoro la mezz'ora per 20 minuti in tondino o in campo no il lavoro col cavallo è subito da quando lo vediamo in box o in paddock ecco già lì il nostro lavoro deve iniziare la nostra interpretazione il nostro appunto la nostra lettura del cavallo deve iniziare il prima possibile proprio per far sì che questo addestramento predittivo sia il più il più reale possibile il più giusto possibile andiamo a rendere queste variabili note perché meno cose variano nell'ambiente e più le possiamo tra virgolette anticipare controllare quindi un cavallo lo prendo che è ben disposto bene quindi so già che un cavallo che arriva nel box è girato ha dormito male lo vedi che ha qualche disagio sai già che qualsiasi cosa ti chiedi magari può anche evitare di chiedere se sei abbastanza avanti infatti bravissimo anche quello è un valore aggiunto della persona capire se è la situazione il modo il momento giusto per chiedere se no è meglio proprio evitare e non far nascere un contrasto un conflitto per cosa magari per litigarci e basta anche loro hanno le giornate storte hanno appunto i loro caratteri abbiamo detto sono intelligenti hanno capacità cognitive anche superiori fanno i loro ragionamenti le loro associazioni fanno tante cose e noi ci incastriamo in quello eh sì noi dobbiamo essere bravi anzi nel miglior modo in quelle situazioni in quei momenti però consideriamolo questo è davvero un passo avanti in tutto e raramente si vede persone appunto ci sono davvero professionisti che lo vedi che già hanno pensato prima quello che stava per fare allora non si sono fatti trovare impreparati nella puntata precedente insomma nelle puntate precedenti abbiamo parlato di tempistica quanto è importante essere appunto tempestivi nel dare la risposta giusta e cavolo e qui si collega benissimo proprio al sapere prima quello che sta per risponderti infatti c'era una bella frase di un trainer americano che diceva l'ottimo cavaliere è colui che rinforza il pensiero del cavallo sicché capire prima che il cavallo ha già pensato a fare quella cosa e dire ok bravo perfetto quello è una bella una bella marcia in più per due motivi primo perché so già quale risposta dargli e non mi faccio trovare impreparato quindi se sta per fare qualcosa che magari mi metterebbe in difficoltà o a disagio proprio perché non me lo aspetto quindi faccio lo scossone faccio quell'atteggiamento e poi faccio anche mi crea anche l'ambiente cioè la chiedo nel momento in cui potrei se dovesse fare qualche cosa potrei gestirlo potrei magari continuare la mia richiesta o in qualche modo appunto rimanere in sicurezza hai parlato ti è piaciuto lo scossone di scossone sì perché ora a volte vediamo dei video di pseudo addestratori proprio che perché ora va di moda il cavallo magari che calcia che impenna che rampa quello colpisce tanto e attira giustamente attira tante persone però è interessante vedere come la persona appunto fa questi scossoni si allontana si appunto fa quelli scatti che dice ok ma quello allora è fatto a caso cioè fatto senza consapevolezza di quello che davvero potrebbe succedere in quel momento è pericoloso sì perché non sono pronto ma poi oltre che è pericoloso proprio come sicurezza non è efficace perché io ho bisogno il più possibile di capire prima le opzioni che potrà dare il cavallo le risposte che mi potrà dare sia quelle buone sia quelle cattive sia quelle pericolose quelle no e quella è la differenza fra un uomo di cavalli appunto è qualcuno che prova che azzarda senza rendersene perché innescare quelle reazioni o io lo voglio fare perché ho bisogno di che il cavallo le tiri fuori perché devo lavorarci e quindi però lo faccio non in mezzo alla strada lo faccio in una situazione dove e sto tranquillo perché ora testa mia questo è importante è come se quando vedi una porta che sta per sbattere se tu la vedi che si sta per chiudere fa il rumore ma se tu sei distratto che stai facendo altro quel rumore lì salti per aria e questo è lo stesso ora sto per chiedere al cavallo una cosa con la borsina di plastica e lui ora manifesterà il disagio ok mi metto in una condizione tale da essere sicurezza non muoverò non cambierò il mio stato emotivo quindi non trasmetterò bravissimo questo è un punto bravo bravissimo quanto si è detto sempre nelle puntate precedenti quanto il nostro stato d'animo vada in qualche modo a alterare anche lo stato d'animo del cavallo quando siamo connessi quando siamo legati e cavolo ma io per controllare il mio stato d'animo proprio la chiave di volta è proprio l'attestramento predittivo perché io devo avere la capacità di capire prima che la sua reazione ok anche se salterà per aria ok non importa che mi agiti non importa che mi metto in uno stato d'allerta perché lo so che lo farà e io sono già nella posizione giusta sono già cosciente di come appunto recuperare quel tipo di situazione e via dicendo e se lo voglio aiutare sono tranquillo e di conseguenza posso essere tranquillo perché molte volte si sente dire appunto in certe situazioni rimani tranquillo cerca di rilassarti ma ragazzi no no non è vero cioè bisogna il cavallo ci può far male un animale grande un animale potenzialmente molto pericoloso e non va bene essere tranquilli sempre a prescindere anzi bisogna anche essere belli svegli bisogna anche capire che appunto in certe circostanze rischiamo tanto e allora non bisogna non bisogna azzardare meglio essere un pochino più un'allerta che invece essere rilassati perché si aiuta il cavallo ma bisogna essere cosciente di quello che può succedere è quello un punto importante perché poi essere un'allerta significa non manifestarlo ma ragionare così cioè io non faccio un piccolo pensiero ne faccio mille proprio perché qualcosa andrà insomma si avvicinerà molto a quella a quello che avevo pensato e quindi perché mi serve anche per sapere come reagire perché magari appunto un conto è non fare niente un conto se devo intervenire e se io ho pensato ok nel libro c'è l'esempio di salire in seda appunto se vuoi Marco puoi spiegare velocemente questa parte qua sì che molte volte appunto nel momento in cui abbiamo a che fare con un cavallo che già sappiamo che magari si muove che già sappiamo che magari avrà difficoltà nello stare fermo durante la sedia di in sella noi dobbiamo già considerare quale sono le sue risposte le sue possibilità di risposta in quella situazione tenderà a andare indietro tenderà a andare in avanti tenderà appunto a spostarsi nel momento in cui metto il piede nella staffa io se riesco a capire prima quello che sta per fare mi posso anche mettere in una condizione per appunto limitare al massimo quel tipo di azione proprio per fargli capire che il salire in sella è una cosa semplice e magari se stai fermo è ancora più conveniente magari riesci a premiarlo con più facilità magari anche usando rinforzo positivo però l'importante è portare il cavallo a stare fermo e se io so che il cavallo nel momento in cui ad esempio metto il piede nella staffa tende ad andare laterale io se sono in campo aperto come faccio metto il piede nella staffa e il cavallo inizia a andare laterale e che fa inizia a salterrare dietro magari anzi gli fa ancora più paura e scappa ancora più lontano e che succede? e l'insegno in qualche modo e quel tipo di risposta ha portato giovamento perché magari si è allontanato da me quindi è peggiorato la situazione ho peggiorato la situazione invece se già prima ho interpretato il cavallo nel modo giusto ecco magari allora quel tipo le prime salite in quel modo le faccio vicine alla staccionata o in maniera tale che nel momento in cui si allontana un po' ho la possibilità di avvicinarmi alla staccionata e fermarlo capito? bisogna sempre riuscire a prevedere il più possibile quello che starà per succedere ma proprio per essere d'aiuto al cavallo sia per dare la risposta giusta e sia per riuscire a gestire al meglio anche il nostro stato d'animo le nostre paure le nostre difficoltà e quella è una parte che veramente fa tanta differenza è un valore aggiunto per tutti per tutte e due sia cavallo che cavaliere è difficile perché è semplice da capire perché alla fine si tratta di un calcolo delle probabilità e più noi abbiamo informazioni sull'animale su noi e più ogni giorno ne acquistiamo di nuove perché appunto quel prova ed errori qui va un pochettino a essere limitato perché se più possibile abbiamo uno scenario chiaro andiamo sicuramente a essere anche più efficaci e più veloci e lui fa meno meno prove meno errori è tutto più più rapido poi ricordi come abbiamo detto nell'altra puntata ogni errore il cavallo lo paga ogni errore nostro il cavallo in qualche modo ne prende le conseguenze sicché è proprio un nostro obbligo cercare di fargli fare meno errori possibili rendergli le cose semplici è quello la frase tatuata sul nostro braccio è proprio rendere le cose semplici a cavallo si fa delle magliette che ho scritto bene quindi il tutto è sempre cercare di migliorare cioè non prendere delle cose fisse cioè non c'è niente di fermo né nella nostra formazione né quella del cavallo eccetera quindi è un'evoluzione continua abbiamo già detto varie volte che il si è sempre fatto così basta abbiamo raccontato con le storie delle scimmiette delle 5 scimmiette e ci sono tante altre storie appunto se volete cercate sul web trovate tanti aneddoti e cose perché è un argomento abbastanza ormai conosciuto e quindi bisogna evolvere bisogna trovare nuovi sistemi bisogna bisogna azzardare anche avere coraggio un po' di appunto di essere curiosi di essere sempre alla ricerca di nuovi scenari di nuove possibilità di nuove tecniche di nuove appunto il se sempre fatto così il cioè l'altro l'altro detto famoso no? chi lascia la strada vecchia per la nuova non sa cosa lascia ma non sa cosa trova siamo cresciuti così comunque è quello tutti cioè e dici cavolo sì ma quella forma che dici ok si rimane sempre così dov'è l'evoluzione dov'è quel passo in avanti ma per tutto per qualsiasi cosa sono proverbi tosti cioè se uno si ferma un attimo a analizzarle dice cavolo ma se davvero consideriamo davvero vediamo le cose in questo modo e rimaniamo tutti alla scoperta ancora della ruota meno male c'è qualcuno ha zardato e quello in equitazione è tantissimo è proprio tipico poi è la parte più bella in ogni caso in tutto perché alla fine è una crescita di tutto ma arrivare a un problema in un modo diverso riuscire a interpretarlo riuscire a essere d'aiuto stimolante è proprio stimolante ma anche proprio più redditizio a livello di risultati proprio di soddisfazione altrimenti è una catena di montaggio che non funziona sempre ma che non funziona sempre ha scapito sempre del cavallo ma poi l'abbiamo detto anche altre volte ma ragazzi siamo all'inizio della comprensione del cavallo cioè se pensiamo che all'inizio del secolo scorso c'è stato caprilli che davvero ha dato una svolta a tutto ma dai bisogna un po' bisogna un po' che ognuno di noi ci metta del suo che ognuno di noi inizia a guardare le cose con occhio nuovo con curiosità con appunto un'apertura talmente più grande che magari proprio chi lo sa si scopre cose nuove tecniche nuove comunicazione via di comunicazione totalmente nuove ragazzi spesso se ne è parlato anche con te di quanto anche l'addestramento sia limitato ancora sul rinforzo positivo e il rinforzo negativo e meno mare ora negli ultimi anni abbiamo dato un po' una smossa a questa già semplicemente a questa comprensione del stimolo risposta via dicendo però è ancora poco cioè c'è tanto di più il cavallo è tanto più complesso e proprio questa complessità molte volte se la sappiamo sfruttare magari rende molto più più fluido molto più semplice un certo tipo di addestramento utilizzando vie nuove secondo me andrebbe anche a creare meno attriti meno far parte di gruppi meno questa perché se lui pensa in un modo io o la penso così oppure non ne posso far parte allora piuttosto di farne parte mi adeguo a quello è un po' il non voler modificare una situazione perché ho paura di avere torto perché l'istruttore mio istruttore mi ha detto così però anche lui è in evoluzione è il metodo la scuola le sette ragazzi no la religione alla fine sono tutta una serie di cose che si basano un po' su questi aspetti qua è per quello che questo tipo di visione questo tipo di approccio questo tipo di addestramento richiede coraggio richiede da parte della persona una grande dose di coraggio per dire ok io la vedo in un modo ora magari sbaglio chi lo sa magari però non per quello devo ascoltare come considerando oro colato tutto quello che appunto mi dice il maestro o il guru o chi lo sa bisogna iniziare a ragionare con la propria testa e anche questo appunto anche di questa parte qui c'è un bias che va a contrastare un po' questa nostra voglia che è appunto lo status quo quello di mantenere la mia situazione quello di perché perché appunto quello che dicevi prima lascio la strada vecchia e quindi abbiamo un po' paura in più c'è il fatto di cercare conferme in quello che noi vogliamo che anche se ci allontaniamo un po' cerchiamo sempre la conferma quindi torniamo là ancora più convinti che però in realtà non ne siamo mai usciti è come dire faccio una ricerca ma leggo la mia attenzione va su quello che io volevo e quindi infatti questo è interessante questo è un altro bias ancora è proprio il bias di conferma e quello è una cosa che quando te me l'hai me l'hai spiegato è interessante perché non so appunto per spiegarlo un po' all'ascoltatori ridici questa cosa della ricerca su google non è ma mi ha colpito quello ti ha colpito perché poi hai provato perché ci casco sempre perché noi andando a cercare un'informazione è appunto il motore di ricerca google eccetera sono la nostra attenzione viene portata e quindi diamo più importanza a quello che è l'informazione che ci dà la conferma di quello che volevamo io cerco che la terra è piatta la cerco e andrò a trovare tra tutte le informazioni valida mi convincerò che quelle tre informazioni sono migliori delle altre magari ce n'è mille che dicano l'opposto che negano e che proprio danno come errata totale però il mio cervello darà più attenzione ma poi c'è anche l'altro problema che i motori di ricerca in questo non ci aiutano perché lo esaltano al contrario siccome che noi abbiamo bisogno di trovare conferme un po' ci profilano proprio quando facciamo le nostre ricerche su quello che noi vogliamo sentirci dire e quindi così come se tu vai su un sistema che ti fa musica spesso ti continuerà a proporre la musica che ti piace che sarebbe quella che hai visto tanti social network adesso vanno così tu guardi un tipo di informazione e tu rimani convogliato bloccato e non uscirai più da quel tipo di categoria di informazione questo ti limita perché tu ti perdi tutto quello che è al di fuori di quello che è i tuoi interessi iniziali diciamo e quindi non vedrai mai una cosa diversa poi c'è da dire appunto che questo tipo di fenomeno di bias si attiva proprio quando certi argomenti suscitano forti emozioni che proprio quando in qualche modo mi infervoro mi infuoco su certe sulla vera ragione per forza su una certa cosa e lì in tutti i modi il mio cervello andrà a valorizzare le cose che confermano e in qualche modo a sminuire il più possibile tutte le altre questo è quello che abbiamo un po' chiamato tutti vogliamo avere ragione nel libro ma infatti tutti questi meccanismi ci portano che niente siamo tutti predisposti che vogliamo avere ragione ci può fare però di nuovo se lo sappiamo cerchiamo un po' di dire ok ma io da quando appunto abbiamo fatto queste cose quando guardo qualcosa cerco sempre di vado in conflitto con me stesso dico ok ma aspetta ma lo voglio vedere e infatti è buono questa cosa perché cercare una conferma al contrario quindi cercare dove ho torto serve proprio ad avvalorare la nostra tesi a valorare la nostra soluzione o ipotesi progettata perché ci dà modo di vederla da altri angoli la mettiamo alla prova e quindi se supera anche questa cosa di ok facciamo finta voglio trovarle difetto infatti e così come noi cosa c'è in me che non va perché l'errore voglio cercare l'errore non la cosa che mi va bene e invece va contro tendenza specialmente quando vai a una lezione dove ti dicono che quello è un po' collegata alla fine è tutto tutto collegato niente bravo infatti molte volte appunto quello poi l'affronteremo anche più avanti quello che è l'istruttore che in qualche modo ti conferma la tua capacità la tua qualità suprema di montare a cavallo è quello che ci gratifica la maggior parte delle volte molte volte invece dà fastidio il personaggio il soggetto dove davvero invece ti mette in risalto gli errori ti mette in risalto le difficoltà in qualche modo appunto cercando di stimolarti però ti fa vedere il tuo limite e quello dà fastidio a tante persone dà fastidio però questo ne parliamo approfonditamente perché va va ampliato molto va sviscerato bene bene io direi che per questa puntata ci fermiamo qui grazie di averci ascoltato o visto alla prossima puntata ciao ragazzi ciao ciao ciao